Grazie a tutti. Se fossi fuoco, arderei le cattiverie del mondo. Se fossi una radio, darei voce a chi si tiene tutto dentro. Se fossi luce, entrerei nelle stanze più buie. Se fossi una fase lunare, sarei la mezzaluna crescente. Se fossi un'emozione, sarei la tristezza. Se fossi una mano, sarei una persona che accarezza. Se fossi un colore, sarei nero. Se fossi una nuvola, mi sposterei sempre e cercherei mie nuove forme diverse. Se fossi un piccione, metterei di cagare sulle auto. Se fossi un tatuaggio, sarei le coordinate di un posto speciale. Se fossi un fiocco di neve, vorrei posarmi su un tetto con gli altri miei compagni e osservare i passaggi unbiancati. Se fossi la coordinatrice di Caleido nel 2020, sarei stanca ma orgogliosa del lavoro di tutti.